A due giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è la cronaca a ricordarci ancora una volta quanto la strada per la tutela delle vittime sia molto lunga. I carabinieri della stazione di Antrodoco hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un giovane straniero di 25 anni, indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di una 14enne. La vicenda si sviluppa in un contesto doloroso e complesso. La relazione, durata alcuni mesi, avrebbe nascosto dinamiche di abuso consumate nell'ombra. La giovane vittima, ascoltata in un'audizione protetta, ha raccontato episodi in cui è emerso, in maniera più che evidente, quanto la sua piena consapevolezza e volontà siano state compromesse. Le indagini, coordinate dalla Procura di Rieti, hanno permesso di raccogliere prove grazie al coraggio dei genitori in prima linea per proteggere la 14enne, all'ascolto di testimoni e alle attività investigative dell'arma. Il provvedimento, condiviso dall'autorità giudiziaria, ha imposto all'indagato il divieto di dimora e di avvicinamento alla ragazza, monitorato tramite braccialetto elettronico, oltre all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Misure necessarie per proteggere la vittima e ribadire l'impegno delle istituzioni nel garantire sicurezza e giustizia. Una vicenda che richiama ancora una volta l'urgenza di un'educazione affettiva anche per le vittime, sempre più giovani, troppo per comprendere appieno ciò che si ritrovano a subire e per reagire. Un messaggio che il 25 novembre non deve mai smettere di trasmettere.